Basta innanzitutto perché purtroppo c'è il grave problema per quanto riguarda la Siria ma anche la Libia della politica estera anche a livello europeo che fa una gran fatica a prendere una posizione netta vediamo quello che purtroppo sta succedendo anche in Libia che non si capisce se siamo in guerra oppure no poi veniamo a sapere che ci sono... però ci sono forze speciali francesi che ci dicono che stanno operando in Libia quindi noi diamo le basi agli americani quindi evidentemente magari non ci siamo però è evidente che tutta la via diplomatica che è stata cercata nell'ultimo anno purtroppo non ha sortito effetti ed era anche evidente visto la situazione della Libia in questo momento e poi anche in Siria purtroppo c'è una situazione e per quello che dicevo anche prima che quell'operazione di ieri va bene ma va bene nel momento in cui però si riescono a coinvolgere tutti i partner e lì dovrebbe essere ovviamente l'ONU che però non so se ancora esista perché vedo che ha grandissime difficoltà ma voi pensate a quello che sta accadendo anche in Siria dove la Turchia, era notizia anche di ieri, bombarda i curdi che sono quelli che combattono più di ogni altro contro l'ISIS quindi c'è una situazione assolutamente di caos e in Siria, soprattutto quello che si diceva la settimana scorsa riguardo all'Arabia Saudita e alla Turchia che volevano fare un intervento di terra attenzione perché lì veramente può essere il caos totale nel momento in cui dovesse succedere una situazione di questo tipo quindi dico, da una parte ovviamente quella è una via sicuramente razionale perché si possono aiutare effettivamente donne e bambini e soprattutto si possono aiutare laddove sono nei campi attorno alla Siria ma dopo bisogna mettersi ad un tavolo e trovare una soluzione per la Siria perché mi sembra che ci siano troppe forze in quella zona che non vogliono trovare una soluzione alla situazione siriana una risposta telegrafica sulla Libia la Siria sì è vero ma comunque il governo italiano ha sempre detto partiamo dalla Libia sulla Libia lei sarebbe favorevole a un impegno militare dei soldati italiani con, come dicono gli americani e sappiamo bene con Antonio Di Bella che tanti anni è stato in America gli scarponi sul terreno, sul territorio della Libia beh ovviamente non solo dell'Italia ma di una coalizione internazionale però non possiamo permettere il fatto che lo Stato Islamico chiamatelo come volete prenda troppo territorio e che si organizzi troppo perché quello che è accaduto anche dieci giorni fa quel bombardamento che c'è stato si è colpito un campo di addestramento dello Stato Islamico e quindi noi non possiamo trovarci con questo presunto Stato a pochi chilometri dalle coste italiane